buongiorno oggi facciamo un cialvellone ripieno imbottito veloce veloce con la pasta già pronta per le pizze allora gli ingredienti per questa ricetta sono un rotolo di pasta per pizze già pronto mezzo filoncino di mozzarella per pizze e circa 200 grammi 150 200 grammi 150 grammi di di prosciutto cotto qualche cucchiaio di parmigiano reggiano 3 4 giusti di broccoli verdi sale pepe paprika e olio come prima cosa vado spezzettare grossolanamente i broccoli verdi dopo di che passo a condirli con un pizzico di sale un pochino d'olio un cucchiaino di paprika mezzo cucchiaino non è troppo e un pochino di parmigiano amalgamo tutto grattugio il filone per le pizze di mozzarella per piazza aggiungo la mozzarella ai broccoli verdi conditi mischio tutto aggiungo dei pezzettini di prosciutto cotto una fettina di prosciutto cotto fatta a pezzettini piccoli metto le fette di prosciutto srotolo la pasta pronta per pizza e metto le fette di prosciutto belle stese per bene su tutta la lunghezza adesso verso sopra le fette il ripieno ho aggiustato per bene e centralmente ripieno e procedo con chiudere la pasta pizza richiudo anche l'altro lato ho imburrato e infarinato uno stampo di 22 centimetri uno stampo per ciambellone e adesso ci trasferisco il tutto dentro eccolo qua ho avvicinato il più possibile i bordi con le mani mi sono aiutata e adesso spennello con olio e pan e parmigiano spennello con olio extravergine d'oliva lo spardo di parmigiano in forno per circa 25 minuti a 180 gradi eccolo qua il ciambellone salato ripieno è stato appena sfornato adesso vediamo dentro come è venuto ecco qua cotto alla perfezione anche sotto adesso vediamo all'interno